La scusa è quella classica, sono uscito a comprare le sigarette. Così si è giustificato con la polizia un tunisino pluripregiudicato per gravi reati per essere evaso dai domiciliari. Era malato e per questo, nonostante l'accusa grave di aver ucciso la figlia, era agli arresti domiciliari in una struttura medica. Rafi Hayed, 61 anni, il 21 ottobre dell'anno scorso aveva ucciso la figlia 37enne Silvi Monia al culmine di una lite familiare per interessi economici nella loro abitazione nelle campagne di Comiso. Era stato fermato subito dopo l'omicidio dalla squadra mobile della questura di Ragusa. L'uomo non andava d'accordo con il genere e i due avevano avuto diverse litiche secondo i familiari erano state dure, ma non erano mai andate oltre insulti o parole piene di odio. Ma l'ultimo scontro avvenuto la sera del 21 ottobre scorso era stato fatale alla donna che lascia tre figlie femmine di 7, 13 e 14 anni. L'uomo in passato era già stato denunciato anche per associazione per delinquere, droga, rapina e porto illegale di arma da fuoco. Era un vero e proprio patriarca, pretendeva rispetto per le sue idee e la sua posizione nella famiglia. Dopo l'omicidio a Dayed sono stati concessi gli arresti domiciliari per motivi di salute ed è stato ricoverato in una struttura medica. Dalla quale però si è allontanato, ha spiegato poi alla polizia per comprare le sigarette. La squadra mobile gli ha contestato il reato di evasione e lo ha condotto in carcere.